musica 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 perfetto Ciao a tutti ragazzi sono Dante e oggi sono ancora con un nuovo episodio della leggenda di Jedra in Elden Ring Oggi ragazzoli belli continuiamo la nostra fantastica avventura all'interno dell'interregno alla ricerca dell'anello elpico Ma prima di cominciare, prima di fare tutto, ora vado a un'anel party a vedere quando entra l'uchino Ok, attendiamo che arrivi E noi intanto possiamo proseguire nella nostra fantomatica avventura, intanto ci mettiamo la nostra carissima arma Non posso, perfetto, allora, vediamo uno poco Sì, ottieni potere, 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 grandissimo Lama blasfema, vediamo un po' Spada sacra di Ricard, signore della blasfemia La sua lama brulica gli resti delle anime degli eroi divorati Nella morte essi condividono lo stesso sangue legati insieme come una famiglia Ripristinano una quantità di PV per ogni nemico sconfitto Fiamma del Ghermitore Solleva la spada sacra per avvantarla di fiamme blasfeme Quindi abbassala per scagliare un colpo Assolve il PV dei nemici che entrano in contatto con le fiamme Questa, questa, questa a me piace Ricevi l'equipaggiamento Vesta del signore del sangue, mio Perfetto Così, ce le ho tutte Vediamo Allora Adesso Non mi sono ancora messo lì a potenziare le cose e tutto Però lo farò col tempo Lui non ha più tanti incantesimi Mi sembra che nemmeno lui ne abbia Lui ha pan alla pancia Mi dispiace per lui Te levo di Questo ha la faccia piantata nei cosi Io Cosa è? Ah Egregio, buongiorno Egregio, buongiorno Egregio è superato eh Allora Dove devo andare? Ilù Ciao Come la va? Tutto bien Molto ben Allora, io Dopo aver battuto Quell'emerito ammasso di Serpi Mi son preso la sua spada Che è perfetta Perché almeno così Eh sì, così ogni volta che la uso Posso tirare una bestemmia E il riassunto non è quello, scusami Guarda che forte è quella là Se usi l'abilità ti cura per ogni mico ucciso Cioè hittato, scusami Eh lo so, ho visto, infatti me la voglio potenziare un bot Io ce l'ho al 9 Ma per un punto non posso metterla Non posso mettermela Cioè in realtà, non posso utilizzare l'abilità Per un punto fede Comunque sono bello tankato, eh Sai? Eh beh, mi son fatto una bella build Ormai mi son messo bene Poi mi devo prendere altra roba E devo iniziare a potenziarmi altre armi Devo iniziare col flaggello celeste Che lo spadone di Radan mi cace un bot Eh ma è figa Eh lo so Bello che è un'arma Cioè con il dual wield incorporato Eh sì, è una di quelle armi Particolari Bellissima A parte che poi non vedo l'ora di Non vedo proprio l'ora anche di Perché quest'arma qua Tecnicamente la voglio usare come arma principale Per il mio personaggio tank Aspetta quale? È il flaggello di Coso Ah ok Quello di Radan Sì 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 Dopo che mi son preso l'arma Mi stavo un po' girando qua intorno Nella tavola Nella rocca Della tavola rotonda Ho notato che Il tipo Quello Tutto vestito Bello in armatura Nella stanza Che sta tutto piegato sui libri Ti dice un sacco di cose Ti dice dove andare Chi è la gente Eh perché lui è l'onnisciente È l'onnisciente un cazzo Dirmelo prima di obono Non me lo ricordavo Vabbè comunque No fa quella mossa Quella nuova mossa Sono bello tirato Bello eccitato Non ti dico Ma la vuoi sapere una cosa bella? Eccola Mi dichi Sai cosa sono Sai come è buildata la mia build? Belle catane Flippi o sanguimento Un cifro Hai trovato uno che Rada con il buon assanguinamento Ma porca troia E beh anche io Più o meno Sono sanguinamente Basta Porca madonna Anche io Sono Di sanguinamento Perché uso La lama del limiere La zana del limiere Eh ma io Io punto A crittare sanguinamente Un botto Eh lo so Per te è più Una rottura di cazzo Eh si Comunque lo sai Che è un pochettino Allora io non so Sinceramente Perché penso che Allora Mi hanno dato un obiettivo Quelli di Di villa Vulcano Mi hanno detto Di andare a uccidere uno Che si chiama Eastvan Però io non c'ho voglia Di andare a uccidere Tu cosa mi dici? Perché sono Bastardi Sti qua Lo so Io non voglio farla Adesso Ma ti dà un botto Di armature Davvero? Sì Cazzo Non so se Ogni nemico Che uccidi Ma molti Ti danno la sua armatura Cioè la propria armatura Eh cazzo Allora dai Così mi tenti Tantissimo Te lo dico io Non mi ricordo Se tutti è Vabbè però Se Tipo l'armatura Che senta l'armatura Quella tutta da riete Sì Eh quella lì Te la droppa un tipo Eh però fai ad esempio Che sono cinque nemici Tre ti danno l'armatura E' già buono Hai già un set Tre set interi di armature No no Allora sono È un esempio Tre da lei È un esempio Uno da Pacis Pacis ci ho parlato A Villa Vulcano No allora devi completare Il primo da Tipa Il secondo da Tipa Mi sembra Che te ne dovrebbe dare Due Poi Quando ti Dal terzo In tiri a Pacis E un altro Ti dicono Che vogliono fare anche loro Sta cosa E ti affidano Il loro compito Ah A parte che ti giuro Sono combattuto Sono combattuto a schifo Perché porca puttana Quando sono andato lì dentro C'erano Quei tre tizi Con cui potevi parlare Uno era dalla rocca Poi c'era Quello lì seduto Che mi ha detto Sei sicuro Di voler uccidere I tuoi stessi simili Ho detto Minchia Che angoscia Eh lui Lui È quello con l'armatura Un po' grosso Sì lui Sì ma mi ha fatto venire Un'angoscia Al corpo Cioè io non c'ho voglia Non voglio uccidere I miei simili No perché Uccidere anche senza voce Per quello Eh appunto Jedra è buono Ancora Sti cazzo No sti cazzo è un cazzo Non lo faccio io Non ammazzo Io sono giusto Aspetta ma come sei arrivato Al serpente Senza Senza farla loro questo Sono andato avanti Lu basta che andavi avanti Nel mondo Io non ho ucciso nessuno Eh Ma tu mi hai detto Il serpente Con la spada Eh Quello che c'ha la faccia Che c'ha due fasi Eh Rikard Eh Rikard si Rikard come cazzo si chiama Eh l'ho fatto io Ma io ho ancora Da uccidere Istvan A me l'ha dato Ha dato l'accesso all'area Cioè l'ha portato lei all'area Ah io ho provato Ad aprire le altre porte Si aprivano Sì ma non ti portano All'area del boss Sì che mi portano All'area del boss Ok Eh ci metti un po' Ma ti ci portano No Ok Perché fai tutto il giro lungo Probabilmente quello che hai fatto te È il giro corto Perché poi ti danno Magari una chiave E ti portano a lui No no lei ti trasporta Ah ecco No io invece ho trovato Ti dice addio E ti porta Ti rispondi davanti All'area della boss No invece io Mi sono fatto Tutta Villa Vulcano Mi sono esplorato La cittadella Ho battuto l'altro Drago di magma Ho battuto il boss Quello ciccione Ok Il nobile sacri d'arma Sì Il nobile sacri d'arma Ho fatto il giro da sopra Sai che dopo che batti Il nobile sacri d'arma Puoi scendere giù Puoi salire in realtà sopra E poi c'è un punto Dove scendere Ci sono le lumache di lava Il mio canno Sì sì ho capito Ma sono morto E io ho fatto Io l'ho trovato Quella lì C'è una porta segreta Per accedere a quell'area No Lo sapevi No? Dove cazzo hai elevato te? Eh dalla stanza del boss Dell'antico sacri d'arma C'è un elevatore No Come sei arrivato Nella zona dove c'era quello Il sacri d'arma? Nella zona dietro Villa Vulcano Come ci sei arrivato? Eh ho aperto le altre porte C'era una porta C'era scritto C'era un messaggio con scritto Muro invisibile E io l'ho traversato Ah ok Muro invisibile è passato Eh sì Ma io non ho fatto niente Cioè Non ho Non ho continuato la quest di Villa Vulcano Io Sì sì no Capito 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 Non è che non capivo come avessi trovato quella senza il muro invisibile No no Ho trovato il muro invisibile No no mi sono fatto tutto il muro invisibile In Italia lì ci sono due serpenti Che ti troppano una delle armi più forti Che è tipo la spada di magma Però è rara da droppare Adesso non mi ricordo Mi hanno droppato qualcosa ma non penso che sia la spada di magma È una spada curva Guardaci se vuoi Ma non penso È molto rara È una spada curva Non ho spado né curva Spada Cazzo mi fa sempre sta mossa Scimitarra Scimitarra Falcion Shamshir Spada curva da saggeggiatore Mantide Dio serpente Spada curva del dio serpente È questa No 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 È quella È la spada di magma La spada di magma Allora niente Mi sembra sia una spada di magma Ma non ne sono sicurissima È tipo tutta fatta di lava Sembra Ah no no Ah sì che è fiammeggiante Sì No Ah ma è quella che usavano alcuni serpenti Sì Loro te la droppano Ah vabbè sì Non l'ho droppata da loro Ahia non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Ucciditi 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 Dai fallo fuori Porco dio Ok Dio bestia Ale Adesso inizia il difficile Quindi io l'unica cosa che mi è rimasta da fare È o esplorarmi i O esplorarmi i vari dungeon oppure andare avanti Io direi di andare avanti Dove che sei? Che vero te? Eh devo iniziare Aia aia Dei giganti Eh io ti direi di farla Una bella zona Va bene ci vado Cattedrale del rinnegato No Quale cazzo Ah occhio alla prima era Dove ti danno il cazzo Che maglia è eclatante Perfetto No stupido ritardato Stupido ritardato Ok non hai preso danno Stupido ritardato Inizia ancora la tanki Allora lander Ok forse non la tanko elite però Dai è un bel try questo Era un bel try È iniziato bene Eh Ah non rispondo Ieri minchia l'ho lasciata Ha uno sputo di vita Ha lasciato sto cazzo di boss Tua madre zoccola Minchia mi fai venire male Lu Ho fatto già Mi sono già rispeccato Le statistiche Dio porco Schivato male Ecco No no il fuoco No il fuoco No Sopra c'è il bordallo di gente Non ne ho voglia Corri Fregatene Fate finta di niente Bastardi Fate finta di niente No 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 Please no please no Porco dio Oh 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 brutto 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 Bastardo Mi ho schifato la presa Guarda Che senso no In che senso 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 Ah sono morto Sono palesemente morto Ok Tira la leva Spiegate come sono ancora vivo Non importa se sei vivo è buono Non chiedere Non far domande Che poi muore Ah 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 Grande attacco Ok Sono salito in cica Ma non mi si stunna più Lo sono riuscito a stunnarlo una volta Basta Da quella volta Non lo riesco più a stunnare Minchia Bello tosco Quanto cazzo Ti muovi Porcaccio Incribbio Capito il caschetto Capito un colpo in gola Due colpi in gola Cazzo di libertato Ok In teoria Il sigilo di Mog Dovrebbe essere sparito Yeppar Soborghi della capitale Per favore Vai a fare prima la torre divina Te lo consiglio Anzi no Vai prima su Attiva il tetra Cioè il portale Di confezione La grazia E poi vai a fare la torre divina Perché è un botto lungo il ponte Meno quando l'hai fatto No ma aspetta un attimo Dov'è la torre divina? È lì dal passaggio Perché in te Arrivi E hai due strade O C'è l'ascensore O c'hai un Corredore Ah ecco la torre divina Se vai alla torre divina Poi devi farti un botto di strade indietro Tornando E danno al tuo ricazzo Io ti dico Vai prima All'ascensore E attivi la grazia Che è lì davanti E poi vai alla torre divina Giusto che ti risparmi L'orto di coglioni di camminare Figlio di puttana Non sparire È enorme È grosso Perché è così grosso Eh che cazzo No non sparire bastardo Figlio di puttana Eh ma sei un figlio di troia Eh hai rotto il cazzo Allora Agli arcancitti Porco Allora Entriamo All'dio no Non fargli la presa Non fargli la presa È una povera lacrame di fresa In difesa Allora Allora Qua c'è il L'ascensore Io prendo l'ascensore Giusto? E poi torno su E vado laggiù Ok Ezzo che buio Oh ah c'è qui luce Ah lì trovi un'arma carina La lama gemella Ma c'è una nebbia del Cristo qua Oh porco Dio Si è girato verso di me Ma come mi hai fatto full vita Con questo attacco Da quando? Mi toglio metà vita di solito Ragazzi Che due coglioni Signora Le vengo a dare una manina? Ma se vuoi spoilerarti il boss Si No No più che altro Non per Radagon Per Radagon Ma che è carino E che è un'inculata di buono Piccolo grande Radagon Si a parte perché Se ti evochi La cosa Dai ti evoco Eh ma per fare? Che te lo rendo più difficile Per fare Radagon Ma no me lo spoiler Radagon Cioè Ho capito Cosa Ma non si può Devo avere un impatto Che cazzo Perché è tutto buio Lu? No sono finito in Bloodborne Porca troia No 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 dai Ah Minchia un fantasma Spaventato È spuntato un altro giocatore Mi sono cagato addosso Stanno combattendo in tantissimi Che cazzo è Io l'ho fatto offline Quel Quel pezzo Ma mi hanno fatto cagare a do Raccogli Ok Quindi Eeey Chi è? Ah Ah siete voi Mi sono cagato addosso Implacabile Eh la madonna Eh sono un coglione però Ah Ah Ahia Eeeh Quanti Quanti segni di morte Che c'è in giro Però è È una bella tattica È questa Ti fanno prendere Di un male Che Poi ti mettono Ste pippe Allucinanti Che mamma mia Sono No Non è morto Ok Porco dio Stava camminando Senza vita Con la mano davanti a se Mi sono cagato addosso Mi voleva abbatterti il 5 Bella bro Ha detto Minchia questo qua Ma diventa Gesù Cristo Minchia mia sci Vabbè Ma davano Sono una pippa Sti tizi Oh Ah rollo Eccolo dove cazzo era La mazza Grande rollo Grande rollo Best summon Dopo il mimic È davvero forte rollo No non so se sia davvero Tra quelle che ho È quella che preferisco Perché l'altro non l'ho provato Non è taglio No il buco nero No Il buco nero Come il buco nero Porco dio Me l'ha fatto in gola Ce l'ho dentro Eh minchia Ma Una cosa Eh Ma tu sai mica Dove è la torre divina Per la cosa di Mog? Sì Vuoi che te lo dico Tant'è Davide facilmente Ciao Peppe Dov'è? All'attimo Sto caricando Tranquillo Allora All'Hendel Dovebbe essere quella Ovest Giusto? Ah è quella di Mog? Leggici Leggici Altus Ovest Sì Allora Devi andare Alla Grazia Albero spettrale Delle mure esterne Quella dopo Ma io ce l'ho La torre divina Di Altus Ovest Allora Vabbè Attivarla Ah no appunto Volevo chiedere solamente Qual era Ah no Pensavo non l'avessi ancora trovata No no Trovare l'ho trovata Ma non sapevo che era la sua Poi quella Sperduta in mezzo al mare Quella di Malenio Ma non lo sai Ah ma ce ne sono due qua Dove? È nella torre divina di Est Ce ne sono due Di che? Di rune maggiori da mettere No E io vedo due simboli Vedo Un cerchio intero Con una riga in mezzo Ed è illuminato di fuoco Tipo Invece poi c'è l'altro Che è Un È quello di Mog Aspetta un po' Ma non è che posso Prova ad attivarla lì Ah mi fa attivare Quella di Morgoth E quella di Mog Qua Carino Strano Allora Fammi provare Vedere Ho fatto quella di Moghi Ah me ne fattivare tutte e due Morgoth No tutte e due me l'ha fatta fare Ho stato totalmente veloce Che ho È l'uso È l'uso È il potere Di È Oh belle 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 Allora Morgoth Cosa fa Aumenta i pv massimi Eh beh Praticamente quella di Radan Però bisogna Ti ricordo meglio quella di Godric È quella che uso più dall'inizio È meglio quella Allora Questo non l'ho letta Io spero sia un bug questa cosa perché è fastidiosissima Questa rona maggiore è l'anello portante che regge la base Ah E dimostra due verità Chi Che il re del presagio era nato tra gli auri E che era realmente il signore di Lindel Ah Porcaccio Loro incredibile Uno maggiore dell'araldo del No 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 Ti prego ti prego Conferisce una benedizione di sangue agli spettri evocati E penso faccia far sanguinamento a quelli che evo E partisce la prima di una runa maggiore se l'invasione ha successo Ah 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 Oh sono un clown Ah 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 Mog e Morgoth sono gemelli E le loro rune maggiori sono prevedibilmente simili Cazzo Ma la runa di Mog è imbevuta di sangue maledetto Per l'amore devoto che rivolge alla bietta gora in cui è nato Nelle viscere della terra Che figata ma ah cazzo Quindi Però qua c'è una domanda Forse è vero perché scusami un attimo Allora Margit non è reale No Margit è Morgoth Eh appunto Quindi È perché comunque tu Margit tecnicamente lo rincontri Prima di entrare all'Indel Che dovrebbe essere un tizio normale E poi si trasforma in Margit Quindi alla fine Il boss Margit Non è Margit ma è la prima fase di Morgoth Alla fin fine Quindi praticamente tu all'inizio batti Morgoth Vaffanculo Batti un tipo dalla madonna Runa maggiore del mainato E quando l'ho fatta questa scusami È quella di Renala E quando cazzo l'ho fatta quella di Renala Ma quando È già attivata È già attivata Ah te l'ha già attivata Yes Perché non è lei la semidea della runa Ce l'ha Penso eh Sia perché è di In realtà Sia di runni A meno quello che pensa Non so se è vero o meno Uovo d'ambra Ghermito da Renala Regina del Pellinunio Runa maggiore Vabbè No vabbè Dimmelo tu scusami Affina coloro che assurgono A nuova vita I figli condotti alla rinascita Da Renala Sono fragili Destinati a brevi esistenze Esseri Inesorabilmente imperfetti Sì Ma Aspetta che io Giovo anche questa di Riccard Quindi Priva di benedizione Cerca la torre Divina Di Altus Ovest Ah ecco Che si erge Ah ecco chi serve Eh sì Allora vado subito a farla Vabbè Beh ce l'ho Vado Riccard quindi Questo qua Vediamo cosa fa Cosa di Riccard Ehm Quindi Però Per Ma scusami un attimo Ma la torre divina Quella A Liurnia Come cazzo fai a salire Ma Soprattutto Di chi cazzo è Quella roba Allora A Liurnia Eh Eh Se vuoi te lo dico Di chi è il boss Beh basta Che comunque vai No Ma madre è una zocca Che fai Tu ci sei salito Sopra Sì E come si fa Tu sei andata alla sala di studio cariana Eh La stanza che c'è sotto Il palazzo che c'è sotto la torre divina Sala studio cariana Aiuto Aspetta un attimo che qua E' complicata la situazione Vai tranquillo Ah la vita è una triste La vai La cosa di studio cariana E c'è un altarino Eh sì Invece Potevi posizionare un oggetto Che ti dà ranni Quindi forse me l'ha già dato No Non te l'ha dato Troia No poveri Aspetta Si chiama Statua al contrario Eh beh E' una Tipo una statuetta di legno A testa in giù Un po' Statuetta di legno A testa in giù O una statua Legge Statua invertita Doveva essere Non mi ricordo No Non me l'ha data No non me l'ha data A proposito di una cosa Visto che siamo già qua in tema E poi mi dimentico Che cazzo devo fare a Nocron Dio bono Cioè io sono arrivato a un punto Basta Hai trovato il pezzo d'Ambra Aspetta Ma non te lo dico Dove vi No non era il pezzo d'Ambra Era il Devi trovare Devi trovare Adesso te lo dico Ma mi sa che non ce l'ho più Ah Al controllo Devi trovare Vabbè in pratica Devi trovare Un Un oggetto Che nella descrizione Ha il segreto Di Nocron Non ce l'ho più No non ce l'ho più Vabbè in pratica Trovi quella cosa Che è A Nocron E poi puoi andare da run Gliela dai E le tira Urlo del suiù Non mi ricordo che cazzo Di oggetto sia Beh comunque Nella descrizione c'è L'oggetto Segreto Di Nocron Non ce l'ho più Non ce l'ho più Non ce l'ho più Non ce l'ho più Vabbè in Un altro Regalto Però Può essere Poi Nocron Dove si è arrivato Eh Tesoro nascosto Della città eterna Di Nocron Si narra Che questa lama Sia nata Da un cadavere Questo feticio insanguinato è la prova Dell'alto tradimento commesso Dalla città eterna E simboleggia la sua rovina Non può essere brandita Da chi è senza destino Ma sembra che possa colpire La volontà superiore E i suoi vassalli Devo portarlo quindi a lei? A Ranni Quindi devo andare da Ranni adesso Mi chiamare detta zoccola per andare avanti nella tua quest Che è rottura di coglioni Non è quasi finito Sì io voglio soltanto l'armatura di Blade Non mi frega un cazzo Non ho ancora guardato Io sono scemo perché non ho ancora neanche guardato Come cazzo si fa a prendere No tranquillo lo ottieni Facendo la sua quest Sì 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 Quindi facendo la quest Che vuoi ti guida nella quest non è un problema Grazie Non l'ho fatta a caso io quindi La vuole sapere Una notiziona importante Diciamo Da domani C'è anche il buon mesano Con noi Addirittura Addirittura Ma su Play 5 Perché gli è arrivata la Play 5 Pezzo di merda Caino bastardo Ranni Oh ti sei svegliato Io voglio fare del grande campagna con Mattia Vuoi farla domani La grande campagna No cazzo domani No domani non ci sto Vabbè c'è tempo Tanto lo faccio girare Tanto il problema è che io non riuscirò a finire il gioco In realtà forse domani lo finisco No non è vero Devo farmi in tutta la città dei cosi No cazzo io domani vado io Un prezioso cimile Un prezioso cimile L'unedì dovrei essere qua Sì lunedì dovrei esserci Se ci siete pure voi Fatemi sapere Lunedì io ci sono Non faccio un cazzo No che basquetta per quello Io mi sapevo qualcosa Ok mi ha detto che posso andarmene Me ne vado Vado alla torre Chi ti ha detto che puoi andartene Ranni Che posso andare alla torre Vado alla torre adesso Sì Alla torre quella che era chiusa prima Adesso può entrare Sala studio cariano Posiziona Oh 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 Attenzione Aspetta Ho taglato la statua? Sì l'ho posizionata Ah ok Lui hai già fatto la sala studio comunque? Sì l'ho già girata Ok ok Sì perché io ho detto Vabbè tanto è Tanto ci vado un po' Dentro Qui mi vuoi dire che è cambiato tutto adesso? No no Adesso capirai Ma tecnicamente facendo la quest di runny Tu dovresti riuscire a sbloccare il suo finale Io intero l'ho completato adesso questa Ma ha detto ci rivedremo Eh mi sa di sì allora Ma ha detto probabilmente ci rivedremo ma non mi ricordo È tutto al contrario Eh già È stato invertito a posto Ma quindi io come scendo lì? Muoio? No Mi butto piano piano Perché non posso tirare la leva? Estrella Eh sì perché non posso tirar la leva per far tirare su il coso Quindi vado qua Manina Tante manine Ma porco Dio mi siete trasportato addosso dai Non ci credo Mi gira la testa Lu Mi da fastidio che è tutto al contrario Mi urta Succede Mi urta e mi turba Ma io vado di qua guarda non c'è nessuno di qua Non cazzo spara quello È scemo È rincoglionito Lo sapevo io Elden Ring fa male alla gente Oh ma strada Che paura Del precettore Orca la Marianna Povero Marianna È ma è una zoccola No Precettrice di merda Chi è sto qua? Che cazzo volete? La tave la fanculo Uh lucidità Ma tua mamma zoccola È la che sto per perdere io Santi Dio La mamma zoccola No 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 Quella è Radagon Medicina Dammi l'editina Come è Renala? Che c'è entrato in Renala? È sua madre? No No Non era madre Non lo so Mi frega un cazzo Degli inciuci Io sono Lui Io derivo da Io arrivo Da Dark Souls Dove Quinn Era un fottuto coniglio Cioè si scopava tutti e tutto È un po' È un po' Zeus Si scopava cani e porci E alla fine si ritrovava I figli contro Mani Tua mamma Quel cane bastonato Adesso mi immagino C'è un boss mano E sarebbe inquietato No Non penso Avvenuto Ma Comunque sono Particolarmente Sorpreso nel vedere Che i I lampadari Sono belli Penzolanti Come se fossero Normali Invece Ma mi sa che La cosa del capovolgimento Ha funzionato soltanto Sul mio piano astrale Non so il resto Perché qua è tutto No no È tutto capovolto Ma nel senso che Tutto a testa in giù Come se fosse normale No Devo scendere sui candelabri Porco mondo Che vita di merda Dio No Dio merda No Sì va bene Va bene Va bene Ma Ok Lo stronzo Sono stronzissimo Sono stronzissimo Non ho capito Non devo vincerla Olè Clicca Signora Clicco Si scende O si sale Dipende da Quante mosse Ciò Ai pezzo Di merda Mi stai Mi stai facendo Venire male al cuore Lui te lo giuro Mi viene male A pensare di battere Radagon Dove me sta venendo male al cuore Mamma mia Se te stai imprecando così tanto Mi immagino io Porco mondo Filmato Succede Attenzione Mega boss fight C'è marica adesso dietro No C'è Gesù qua Dio buono Ah la torre divina Minchia Ho tutto il casino Per arrivare alla torre Dio buono Porca troia Ma una strada normale No eh Difficile Perché Perché è più bella La strada normale No Me un cazzo È più bella No È troppo lungo Il ponte Ora mi fanno Un altro ciocco Luminoso Mi mettono qualcosa In faccia Di nuovo Come si No sono in faccia Porco dio È troppo lungo Ci sono delle pietrine Per terra Frammento di rovinio Sì Sono le pietrine Ma non te di nuovo Santo dio Quanto è che c'ho di carico 73 No non posso andare oltre Ma non il cicciopanza Di nuovo Io non mi sono manco seduto Cazzo Eh sei un dito nel culo Aiaaa Picchia Mi picchia No sono stronzo Ok non sono così stronzo Eh lo so eh Però Un pochettino Mi stai facendo piangere Già a me adesso Figurato il po' Quando me lo devo fare Che cazzo fa Idiota No Lu No Quella mossa È la mossa più brutta Che tu possa fare No Dai no Ti prego no No Lu No mi dispiace tanto Mi dispiace troppo Ti giuro Mi dispiace È volato giù di sotto È volato giù di sotto Ma chi? Il ciccione Ma chi è che era il suo ciccione? È quello lì Che trovi a Villa Vulcano Il ciccione Quello prima di Di Ricard Oh Mi è apparso sul ponte Tutto pretenzioso e cosa Poi io Ho Ho combattuto contro di lui E cosa A un certo punto Ho fatto quella mossa di salto È volato giù di sotto Mi ha droppato tutto il set Che culo Pensavo di creparci invece Un cazzo Che cazzo sei a me Frammento della rovina Non mi ricordo Soccola Allora Entriamo Sì ma io non ho più cose Quindi Ci salgo per niente Posso vedere di chi è la cosa Nobile sacri d'arma Gli stunni Ho quattro abilitato Ho tirato Oddio Che schifo È pelle Sottocutano Lo rende soffice E indottito Indossato da nobili Di sacri d'arma Mamma mia Che schifo Che mondo Ah il nobile sacri d'arma C'era Ok Sì sì Eh non mi viene il nome Ho dei problemi Ho lui con i nomi Ah vai tranquillo Vai tranquillo Che non capivo Pensavo da NPC Tra via 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 vucano Eh no Davo a guardare controlla Perché non l'ho visto Ah non c'è C'è un oggetto? Che cazzo è sto qua? Naturalmente Il grande buco nero Signori Voi ho scrivato Marchio maledetto Però non scriverò questo Cimeno dell'astrologa Ok non sta Facendo quell'attacco Su un cazzo rosso per nulla Marco Ha sbagliato Che carne di runny La principessa lunare Questa è Ranni? Si Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di Ranni la strega Noto anche come lo squarcio semicircolare del millepiedi E che cos'è? Anche questi qua hanno visto Attack of Titan? Basta con sto millepiedi Avete rotto il cazzo Sono rotti i coglioni Merda, merda, merda Questo Marchio maledetto inciso alla morte del primo semidio E doveva avere forma circolare Poiché morirono due semidei Contemporaneamente tuttavia il Marchio si spezzò in due semicerchi Ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo Mentre il principe della morte morì solo nell'anima E il principe della morte è morto, va bene Come dire è morta la morte Quindi questa è Ranni Io come la schivo sta mossa Mi continuo a inseguire L'avevo praticamente fatta Cioè è gigantesca Lei però va bene Quindi se io adesso torno Da quella bambola di merda Di cui tutti ormai ci fanno i porno Perché non ho capito perché Vorrei sapere Ranni Ma stai a vedere che hanno fatto Non c'è più Ranni in teoria Ah no? Se ti ha dato la statua dovrebbe essere andata via Vediamo Sono curioso Facce la controllare ma dovrebbe essere Io mi fido del tuo giudizio ma Sì no controlla controlla perché non mi ricordo bene Non mi ricordo se va via adesso o dopo Mi piace che la piattaforma dove vado è praticamente un buffer Ah fammi pensare Se non c'è più vai a parlare con Iji Ok Ah no C'è il falò Ah grazie Ok non c'è più Allora il falò ti punta alla torre di fianco Che quello lì è molto per andare avanti Torre di ren Ti ho faccio al volo Che tanto c'è un completo E poi è un teletrasporto Se lo prendi ti ti fa più una grazia Se non hai già sbloccata Poi vai dai A me sembra che Ma io l'avevo già visitata le torre mi sa No quella è bloccata Era bloccata? Ah allora niente Sì non ti dava l'accesso No non mi dava l'accesso Non me la ricordo Ci vado Le tre sorelle Tre sorelle 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 Olè Torre di ren Ren E sali Ogni tanto non gli piacciono le scale a Iedra Merda Questo attacco è fortissimo Cioè non è fortissimo È un bastardissimo C'è un teleport Non ho trovato L'oggetto Eh prendilo Eh salite le scale Dalla parte opposta della porta Forse Ah eh Minchia Bastardi Minchia per una volta che non mi guardo intorno Ah Le vesti di runny Sì Sono Antichemente le vesti La stasera Non sbaglio Lo dovrei vedere nella descrizione Vado subito A parte che Non mi sono letto un affare Ecco Dell'astrologa Ah aumenta l'intelligenza Perfetto La giovane astrologa Con lo sguardo rivolto al cielo notturno Ogni passo Del suo lungo viaggio L'aveva avvicinata Alle stelle Finché non incontrò La luna piena Fu allora che l'astrologa Divenne regina Ah Renala quindi Uh bella Vediamo un po' Cappella punta da strega Ammantato di gelo La foggia è solitamente associata A chi pratica le stregonerie eretiche Potenza le stregonerie eretiche Dai vola Vola Uccidimi la lacrima Come fai al solito Indossato dalla Dalla megera delle nevi Incontrata Dalla giovane ranni Nel folto dei boschi Costei Era una strega Esperta di stregonerie del freddo Si dice che la bambola In cui alberga L'anima di Ranni Sia stata modellata Sulle sue fattezze Ah la vecchia strega Fu in segreto La sua mentone Ah ecco Buono 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 Ci sta Ok adesso Detasportati Vado Tocco il buco Entro nel buco Attendo Ed esco No No Finalmente Grazie a Dio E io che ci ho pestemmiato In tutte le lingue del mondo Per arrivare qua Dove? Maledetto Maledetto fiume Heinzel Madonna quanto fiodio Eh si No Eh si sono al fiume Heinzel Beh Si ma nel senso È la parte Quella un po' più inculata È un buco di merda Eh si Io ci ho bestemmiato 30 lingue Per arrivare qua Non capivo come ti sei arrivato Non gli fa un cazzo No Lo vedevo dall'alto No merda Fa la grande mossa Pezza di merda Ma guardate dove cazzo Sono finito Pezzi di merda Vaffanculo Che luogo del cazzo Tocca la grazia Allora adesso vai da Ishi Ah devo andare E parla con lui Che palle Ishi Che hai fatto il cazzo Ishi Che cazzo leggi Che notte Come fai a vedere Ecco Sono felice di vederti qui Ah Sei messa in viaggio La signorina Eh si Dalla torre di Ren Fai grande mossa Porco Allora zitto zitto Per piacere Adesso non parlare più Porco di orco Di orco Di orco Di orco No 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 Uno Due Tre No l'ho presa in culo L'ho presa in culo L'ho presa nel culo È gigantesca Sono arrivato al limite Ma poi sono arrivato Sono un ritardato Di merda Ma poi Mi propria È nearing Its end I've served Lady Rani For as long As I can Mimam It has been a long And wondrous Journey Now Lady Rani Is in your hands I pray that you serve her well And to the very end Lady Rani Along the dark path of the Imperium Now Lady Rani Is in your hand I pray that No 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 Ti prego ti prego ti prego ti prego Ti prego Non darmi la morte per questo Si Porco dio si Hai fatto fuori Grande Grande Lu Grande Ma Grande Lu Grande Sei andato a parlare con Ishi? Si ci ho parlato Mi ha detto tante cose Ok 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 Adesso siamo fermi Siamo fermi Grazie Allora Ti ha detto che ha portato via Il lupo No Come no Sei di Daishi? Mi dice la signora Rani Ha fatto lì È andata la torre di Ren Ha fatto il caffè Ok ora Riposa la grazia Riparlaci Ah ok Vedi se funziona Porco dio Allora Adesso però ho un problema Ho un problema Grandissimo Gigantesco Tu non hai idea di quanto cazzo sia grande sto problema No mi dice la stessa cosa Ok allora Vai Fai pensare Allora ti ricordi dove è morto il limiere? Quello che ha dato la zanna? Sì La galera Vai là al volo Vedi se riesci Si senti l'urlato del lupo Mi stavi dicendo? Io sto morendo Vedi se riesci a sentire Se senti lì l'urlato del lupo Ah sì vabbè Non stavo parlando di quello Io stavo parlando di Stavi parlando di un'altra cosa Ho detto aspettate tutti Fermi Ma non mi ricordo Sto andando per venti Sto cosa è un pezzo di merda enorme Allora No vabbè metti il trasporto fuori Fa un culo Schifo il L'endgame No Fa un culo l'endgame Allora Se vai Se vai alla Alla cosa lì E senti l'urlato del lupo Alla galera Se senti l'urlato del lupo Vai sulla galera Se non lo senti Te trasporti al fiume Eccolo Lo senti? Sì sì Ok Allora Se vai sulla galera Hai due opzioni Olo liberi Parla Sì E lui ti parla Ascolta quello che cazzo Che ha da dire Non mi ricordo cosa ti dica Allora Olo libero Ma vabbè aspetta Olo liberi Olo liberi Ah sì Ascoltalo Come lo vuoi Sei tu Ah è finito nella gabbia Come ti ha intrappolato Eiji Ok Ok quindi posso aprirla O non aprirla Allora se l'apri Prosegue come l'ho fatta io Se non l'apri Prosegue come non l'ho fatta io Quindi non mi danno il vestito Non lo so Non lo so Io ti dico come l'ho fatta Io l'ho aperta la cosa Io l'ho fatto uscire lui E ti ha dato il vestito? Sì E non lo dai istantaneamente Vabbè però te lo danno Sì Allora l'ap Sì sì Io voglio il suo set Voglio Ti dà anche lo spadone Che è fighissimo Ehi stai buono Ha una verità davvero forte Parla Prego Ah ho finito i cosi Che bella sta spada Che ti cura mentre uccidi Aspetta ma io sono stronzo Devo cercare quali sono tutti I cosi per duplicare le rimembranze Ok adesso cosa devo fare? Che che ho parlato? L'hai liberato o no? Sì sì L'ho liberato C'ho qua davanti Allora vai Parlare da Ishi Mi tira una martellata in testa Ishi Ti uccide? Come mi uccide? Ho scherzato Ho scherzato Ho scherzato Si dice per ridere No cazzo Si dice per ridere Oh qua mi La gente mi ammazza con piacere No non mi ricordo se ti dica qualcosa Sincero eh Però vai a parlarci Ah perché è un'altra Ah perché Blight era nella Galera Eterna? Ecco qua Ho parlato con Blight Ah mi doveva parlare Ah mi doveva parlare Alessino non si sfugge Alla cosa di runny Alla guglia No vai alla guglia di runny E se puoi combatterlo Lui lì fuori Fuori dalla porta? Si Puoi dare la guglia Proprio fuori Se non puoi combatterlo Vai al fiume Heinzel Ma dovrebbe essere appena esco dalla stanza? Si Si appena esce Io ho trovato tre lupi fuori No allora non c'è lui Allora vai al fiume Heinzel Dove hai spottato la guglia di renno Il corso del fiume Heinzel ok E lì davanti dovrebbe esserci una bara Con degli oggetti Cioè con un oggetto sopra Ah dici la mini runny? Eh mini runny si Se ti si dà il falò puoi parlarle Come? E si Ma? No E però devi insistere un po' Non ti risponde subito Ok Non me la mai non ha risposto subito Ah eccola Fatto Sto parlando Ok Adesso ti avrebbe dovuto dire tipo Vai avanti e fai l'urlossimo giusto? Elimano le ombre maligne che infestano queste lande Ok Ha già infangato il nome di Ranien A tollerare atto di disobbedienza Sì infatti Parla con Runny o la posso parlare? Ci parlo? Sì 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 parlo Non mi ha detto niente Ho fatto i tuoi servizi come ricompensa Elimino le ombre maligne che manifesta Le vedete sempre la stessa cosa in teoria Ok quindi devo proseguire in questa zona Fino alla fine Sì allora Devi andare avanti E in teoria c'è Come si chiama? Che figata stabilità In teoria c'è un mega coso che penderà all'altro Ah dio è di quelli lì meteorologici Sì Sì rompi cazzo E ce n'è uno lì Lo vedo lo vedo Ah io ho un ucciso Ho appena un ucciso posso finire il gioco Che cazzo mi uccidi voi? Io tanto sono sicuro che anche se ammazzo Radagon mi ritrovo che che mi ammazza anche Ratty e tutte quelle strottate lì sicuro Io tanto faccio capire Però mi piace che non finisca estentamente il gioco Eh quella è sempre una cosa bella dei souls Perché su coso finiva estentamente Eh ma anche su Dark Souls 1 eh Forse anche sul 2 Ma non ne sono sicuro devo ancora giocarci Allora ho ucciso il tipo Che tipo? Il tipo penzoloso Ah vabbè vai avanti Suvati l'area Non faccio l'area va bene Sì sì Anzi aspetta fai una cosa vedi al volo Aspetta un'altra fammi uccitere sto tipo Fai con calma Cazzo di No ma senti un'altra pesciolone Jiren Gli albinauri Ok no non me lo senti Sì per me sono dei piccoli Jiren Allora vedi se hai come osso sul fiume Vedete c'è il basso corso del fiume Heinzel Come grazie intendo Sì sì Ce l'ho ce l'ho Allora se vai lì Ti è collegato a un'altra zona o no? Cioè c'è un percorsino che ti porta verso la sinistra? Eh soldato draconide di North North Stella o l'altro? No non verso l'alto C'è un tipo di bifio A sinistra proprio? Sì lo vedo Sì sì Eh baci Sì Aspetta non è che ti portava nel baratro quello che dava sulle fiamme? No non mi pare Non penso non so Sicuro non è che mi fai morire bastardo No dovrebbe essere quello il posto Non è quello chiedo scudo Allora qua ci sono tutte quelle formiche col culo grosso Sì sì Che schifo però madonna mia che schifo Volare nel vuoto per piacere non sei volato nel vuoto pezzo di mare Quanto meno ti faccio? C'è una cazzo di affronare Sei gigante Gigante Ui Ehi Rane Rane Sì è giusto la stata allora Tante rane Belle rane Che mi fate ritornare in mente di S1 Non vedo l'ora di rigiocarci Oh Ma chi è questo? Ah no è un cadavere niente Eh cosa devo fare qua? Guarda che c'è un palazzo Io dovrebbe esserci un amico Un nemico? No posso buttarmi giù nel vuoto però io Perché vedo che c'è qualcosa laggiù Aspetta Mi picca qui nessuno Oh no Allora sotto di me Allora vai Allora fai una cosa Vai avanti con Con il fiume Con il sopra del fiume E se ne basta Ok Meno male Almeno così me lo esploro C'è l'u Ti non ti rendi conto Per fare questa parte superiore Quanto cazzo ci ho bestemmiato Perché non ci arrivavo Dicevo ci sarà un modo per arrivarci Cioè ci ho fatto proprio giri rigiri eh Porca troia La vita è vista ricordate Eh lo so Non me lo dì Allora aspetta un secondo Che io adesso voglio vedere una cosa Dove sono Le mie bambine Eccole qua Flagello celeste In che senso Scusi Il flagello celeste Com'è diffidente lei Peso? Peso tantissimo Ah no è qua il pezzo Il bacino della cascata In Noxtella Noxtella Città Eterna Corso di Fiume Einsel Ok Allora Ok ho capito Ho capito Tu sei il corso di Fiume Einsel Ti fai tutta la cosa Ti passi il vermonio gigante galattico Ok Ok Vai avanti tutto E c'è una mini città da fare E poi è lì il punto che ti dicevo Ok Quindi dopo il bestione Devo proseguire dritto Sì Madonna Fai un tentativo di invocazione Vedo se riesco a farmi la zona con te Quindi vuoi Partire Vengo lì da te se vuoi Se ci voglio Per me Guarda mi fa più che piacere Però di solito con me Mi funziona me un cazzo Beh ci si può provare Ma quanto è bella quest'arma Buongiorno Voglio diventare Voglio Voglio farmi Beagle Dio buono Che cazzo Eh Beagle è il tipo di Demon È il mio personaggio di Demon Dov'è che sei te? Sei in percorso? Eh sono nel Allora dove ci vediamo? Ma dimmi tu dove sei? Vengo lì Eh io sono Beh in realtà sono praticamente vicino alla Grazia Quindi se vuoi vengo fino alla Grazia Non avviene la Grazia Vengo la Grazia Intanto sto caricando Ma così almeno magari mi raffullo un po' di cose Tanto è bello Quindi però devo aumentarmi Eh devo aumentarmi Devo aumentarmi che cosa però io Fammi vedere un po' Comunque qua ci si può arrivare anche da un'altra zona E tu l'hai fatto l'acquedotto? Quello nella città Nell'altra Nella Nella Ah no Kron l'hai fatto? E che cosa? L'acquedotto dove c'è il fratello di D Il fratello? Ti è morto D Da un po' Giusto? Chi è D? Il tipo con la maschera Gemella Mi sa che ce l'ho ancora seduto alla rocca io E' ancora seduto? Io si E' lì seduto Mi da Mi da ancora i due poteri e basta E quando cazzo muore? Che cazzo ne so A me Io non faccio schifo a farle quest Non le faccio mai Pensavo morisse quando Ce l'hai grafo pugnale nero? Si L'ho ripreso dal tipo Non pensavo morisse quando prendevi quello Grafo pugnale nero Eccolo qua Pensavo morisse quando Morirà lui Io ho alzato il di tiro Grazie Chi non muore scusa Appunto Però Grazie Allora aspetta Aspetta Allora Che non è morto Per ora C'è Ranni Il tipo Che non si incura nessuno Alla chiesa Subito dopo Godric Vabbè ma Vaffaculo Ma quello lì non serve a un cazzo No io ho completato la sua quest In teoria Come come? C'è una quest? Quel deficiente? Si Gli devi dare la seconda chiave di pietra E lui ti dà la sapienza Le muto Basta Gli altri mi sa che sono morti tutti Minchia non ci credo Lu Oh che cazzo Pensavo di stare tornando a casa Ah ce l'ho sapienza io Lu Aspetti 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 Che faccio cose io L'anello Vabbè tecnicamente Tu sei Sei un lord ancestrale Oramai Quasi Non sono ufficiale Quasi Non ufficiale Ma quasi Che cazzo è quella Adesso Cosa? Ah la spada della mia Porto Poi c'è questa Questa qua è quella D'altra volta che c'è lo zero Io devo potenziarmi un pochettino le Io guarda Sai cosa ti consiglio di fare? Eh dimmi Allora Poi ti dirò dove stanno tutte le cose Per Stare alle Due magene della rocca morte La possibilità di dati tutte le cose possibili Immaginabili Per esempio io ho le pietre Funere Dall'1 al 9 Comprabili Io mi sono andato a farmare le rune Nella zone farming Quella dove c'è il boss Mog Che c'è presente C'è la zone farming con tutti i giron Sì sì Io sono andato lì Mi sono formato le cose Le rune Vieni di qua Di qua al suo lato Sì c'è un oggettino C'è una spada di pietra No pensavo non avessi ancora fatto un cazzo No appena qua hanno fatto E praticamente Io vado lì Mi farmò le rune Con le rune mi compro le pietre Adesso mi sono portato un sacco di armi Al più 9 Buono Mi son portato Una katana Al più 9 Le bolle Mi son portato Vabbè la katana di Malenia Eh La lama blasfema Che è quella che sto usando mo La lama della mezzanotte Che non so come si chiama In parola che mi era tipo Zana di Elmi Allora Zana di questi Si chiama Guglia di Efner Elfen Non so come cazzo Che ha una spada di lungo Che fa sideramento Che non è male Poi un'altra spada Che fa sideramento Vabbè le armi di Radagon Di Adan Si chiama Radan scusa E li confondo Hanno sempre lo stesso Eh si Siamo tutti uguali In questo gioco Poi Che cazzo C'hanno le ali pure Ah si Poi ho preso La spada decida C'è la voglia di un sacco Ho portato al massimo Che cazzo c'ha Intanto a quello E' allo scuro E' per esempio Lo scuro Ah figli di puttana E' in tasso Non ripetano Ma lei dove va Mi aspetti Ah scusi E' la sovra pensiero Io sto guardando Aspetta che non mi ricordo Ecco qua Non mi ricordo Ho messo la torcia Cosa faccio? Ma che tu guarda ti pose No non posso stare No aspetta 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 Ah di qua non posso andare No io Peccato C'è una Dopo quando torna di qua Vai a destra C'è un'altra zona Che c'è di da Dalle stelle Dal pozzo normale E tu sei nella parte sopra E c'è una cassa Che ti dà un'arma E' buona Guarda questa Non è che sei tanto buona A me non piace Una spada Che cazzo attacchi? Che cazzo è? Che cazzo è sta roba? Una figata E' figo ma che cazzo è? Ehm E' un pezzo di quei D'interio è un pezzo di quei Coglioni che volano Oh Di quelli serpenti giganti Nox Stella Città Eterna Madonna questa città eterna Avete rotto il cazzo Guarda là Guarda davanti a te Ah nord-est No nord-west Nord-ovest Sul fiume Vedo una formica E guarda cosa c'è sotto la formica Noo C'è una people E' qua sotto Guarda qua sotto Ma dai Ma perché hanno copiato Ant-Man Come cazzo si chiama la formica Di Ant-Man Ah non ho idea Gary Gary Ma è scoppiato Ho visto Ma porca troia Mi sono appena girato Le foto scoppiate Ma porca troia Mi sono girato Ho visto la vita volare Proprio Oh questa voglio farti vedere Questa è figa Poi Devevo livellarmi un po' Altri Altre ceneri Devo andare Su C'è l'ora L'hai chiuso Vedo Trovato il Mimic Come evocazione Certo Ok Eh l'ho trovato Non mi ricordo Non è vero Te lo danno a Nochron Andiamo Sì sì Non mi ricordo che ci sarà sopra Che qua è bella grande Mi pare ci siamo in due dei giugnini Oh la madonna Ha gli occhi luminosi Aio Ma che contocasso è lungo Ma te lo immagini una cosa Sto per dire una cosa Che secondo me Ha dell'impossibile Te lo immagini Hollow Knight Aspetta Vieni qua Ti faccio una cosa Tu l'hai bloccato Pachis come coso? Sì Allora niente Vole darti qualche zampa Perché pensavo non l'avessi ancora sbloccato No no L'ho sbloccato Che cazzo è quella roba L'uncino? Cosa? Quella roba che hai Eh se uccidere Eh presenti gli uccelli bambini Quelli brutti Ah devo ucciderli Era il loro arma È uno sfadone Cazzo frusti Paccia di merda Guarda cosa fa Oh la madonna E se fiamme Implica un assideramento Bellissimo Oh ma ha dato la testa e le gambe Cotto Oh no Lì qua dove avessi c'è un oggetto Se non ricordo male Starmuto Ai al mio naso Guarda qua intorno Non mi ricordo dove sia Ma che paesaggio soave Dammi un bacino Questa è bellissima sta città Tu non hai idea Un po' tumorale Oh bellissima Invasione del sanguinante Vagina No È dietro di te Posso averlo notato? Sì mi sto soffrendo il naso Però io aspetta Oh È one shot È porco mondo È one shot Minchia l'hai devastato proprio Chiudi l'all'angolo Non farti colpieta È facile a dire Dove cazzo corre questo? Ma vaffanculo Togliti Mi fai body blocking No Oh no Oh no Oh no No aveva la cosa Aveva Cosa? Aveva la Come cazzo si chiama? Aveva la moon Ah guarda Bobina È morto Sì lo so che ce l'hai la moon Non rompermi il cazzo È come cazzo se prende Quella merda Però non posso farla È quella di questi diranni Cioè non è ancora finita Si sblocca qua No è lunghissimo Cos'è questo lo so Ha rotto il cazzo Ranni Ma è lunghissimo Vabbè tanto Ranni La quest di Ranni La farò alla perfezione Con Thelm Che mi servirà per Thelm No ma Penso sia Giusta Come l'ho L'ho fatta io Perché Arriva alla fine Che è Che bello Guarda che mi recupero la vita Quanto è godirosa Stessa spada Io quanto l'ho portata quella Non mi ricordo A più 7 E beh Godereccia E si è Lumache di merda Cioè ho fatto 1300 a una E a quella di fianco Gli ho fatto 600 In che senso Stesso attacco Eh gli andava di fare più Era più dura quella Può? No Ha questa 800 Ha questa 1600 Eh allora Cioè vedi 1060 Dove cazzo? Eeeh Paura Questa 800 800 800 Tutti a due Aiae Basta mordermi Oh ero toccato A spararmi No ma c'è Le merme di merda Siete di demon voi Mi ricordo Belli che siete Le valance Madonna ti giuro Questo gio Ma che cazzo è? Che bello Non so se tu lo vedi L'effetto particellare Che viene addosso a me Ma è una cosa Gudurioso Non lo so Forse me ne rendo pronto C'è un frecciolo nel piede Guarda Madonna Ti dico nel culo No no perché sono fulter Aia Che non sono più fulter Aia Uuuu Sai che penso Che non mi avevo mai preso L'esplosione loro Che cosa vorresti dire con questo? No che sono nelle sebe Quindi vuoi dire che io sono scherzo? Si No si scherza Si scherza Lei è una persona ignobile Non la farò mai giocare con Matti No 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 Voglio vedere le sue prime sclerate Di qua c'è un oggetto Non mi ricordo Controllaci Tanto a parte che lo seguirò passo passo Ti dirai allora Vai a prendere la fiume di sangue No un cazzo No un cazzo Aiuto la top per prendermi di nuovo la scoppio Vai a prenderti la fiume di sangue Vai a prenderti la moonvale Ma c'è un seme d'uovo Tu vendi lo tutto È lassù in cima e non ci arrivo Mi hanno mancato Che ritardo No Kevin Aspetta L'ho preso quel talismano No Anthony si chiamava L'ho preso quel talismano E mi dissi Anthony Non mi ricordo che talismano fosse Troppo Ripristina Pia L'uccisione dei nemici Posso sfammare l'abilità Aspetta Aspetta Scatta Eccolo Aggressivo Eh faccio il velo C'è un Ah no Ci faccio l'ascensore Ah no Mi sa che non possiamo andarci Ci siamo andati Aspetta Ah giù Si va giù qua Come si va giù E dove cazzo vate Eh Te lo dico dopo Ah Sotto dove c'è la boss fight Sotto sotto la boss fight Prendi questa È un attimo Che qua c'è grande Pezzo di merda Che ho mancato per 65 volte Come Non c'è niente qua Aspetta Si che c'è Ma oggettini Controllo Esplorazione Ah no Ma no no Sì sì esplora Ti vado a far fare le rane io Cazzo le rane Ah sì Non dirlo a me Il bello che qua Quelle con il veleno mortale Eh Qua Sciottano come In DS1 Porco dio Eh Sono già morto Io ho paura di volare nel vuoto Ok Che senso Hanno appena schivato la mia mossa Come osate Creature ignobili Sono rane Ma tu la sai la loro cosa Lu Cosa Li vedi quegli occhioni Lì che hanno Sì Non sono gli occhi No lo so Lo so Oh Oh Ombra funesta Che succede Grande ombra funesta Oh Ma perché c'ha la voce femminile Chi cazzo sei Grandi la frega Sta arrivando No che cazzo vuoi Vai attacca Attaccatelo Attacca lui Che cazzo vuoi da me Sto leggendo Ok allora attacca me Ecco è finito Ok attaccate Attacca bro Aia E fischia Bella ciccio Bella Ma Che culo Sai con cosa l'ho stunnato Con questo Guarda Ho fatto così Eh l'ho visto L'ho visto E se è sunnato Voglio potenziare anch'io Quelle armi lì Quelle che utilizzano Sti poteri cristiani Non voglio usarle anch'io Questi qua In fece assideramento Estra buona come cosa Ti ha dato la chiave Oh Sì Ok Quella chiave serve da Per rinforzare a Casa di runny E' da Rinala Oh che bello Mica che casina Poi aprire una merda Di robo Tanto poi nel new game Plastro I messaggi ci sono Io ne vedo uno Mica Io vedo 66 No Io non gioco più Marce scelta Ma porco mondo Guarda quanto cazzo è grossa Ma porra La vedevo dall'alto Ma porca puttana Dio merda Aspetti Ad attivare un coso Ah mappa Al buonissimo Sì sì Si dice se subito la mappa È la cosa buona Ah qua giù Ok E beh minchia Ci mancherebbe Ah non posso attivarlo io Devi venire tu Arrivo Madonna che velocità E c'è Lì dovrebbe esserci Un oggettino Oh grande magia Ah grande percorso Io ora Guarda chi arriva Chi arriva Sei pronto? Aspetta Chi arriva? Chi cazzo è quello? È un tipo Eh Ah eh No Ah le rane? Danno potrebbe Marce scienza? No Non si è 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 Finca pensavo Che arrivasse Chissà chi Ora vai dritto Di là Ma la marce scienza Mi shotta? No ti fa danno continuato nel tempo Ehi Corri Mi prende Io non posso Io non ho Non ho più volo Io Io ho il potere che mi toglie L'ho levato Sono un coglione Sono un grande coglione Dammi un volo Allora ci sono Allora guardami un attimo Abbiamo due cose Allora andiamo di là E c'è il soldato draconide Ma io non posso Lo vedi là bello rannicchiato No Vedo un cazzo io No Ditto di a Metà tra l'est e il sud E quello sarebbe A me siamo un cumulo di merda Si è un cumulo di merda Che poi si alza Picchia Però Ok Oppure Andiamo di là Che è la zona dove c'è la grazia Mi sa che è meglio magari La grazia Aspetta però c'è in realtà Un altro tipo In mezzo al lago Ti dà un omuleto Deve essere tipo Giù di qua Non mi ricordo esattamente dove Non c'è la rana Oh ho finito i boli Io mi so Ma hanno 3 Hai dei boli Ti vuoi te li faccio? Eh si Io ho finito i materiali per farli E non posso creare E non posso creare Sono in combattimento Allora intanto Ti posso Abbandona È che non ho neanche tante fiaschette Per quello Te lo tolì Cazzo Ti ringrazio Allora Ne ho bisogno di altri Io ne ho 13 No è che io ho finito Il boccioli cristallini Ah io il muschio Eh si Eh il muschio cristallino Dove essere Un pare Non so che sta prendendo danno Si il muschio cristallino Io Eh l'ho finito Allora aspetta Dove è che erano Pigea quel button lì Lo lì davanti Dovebbe alzare Dei cosi qua di fianco Poi ce n'è uno In teoria Che alza Delle piattaforme intorno a lui Ah ecco È laggiù Lo vedo Eh vabbè Lo facciamo dopo No per un mezzo secondo Ma io se Corro Sti cazzo Corri 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 Allora Vieni qua No no vieni sulla piattaforma qua Allora là c'è un forziere Ok Io non ho più fiaschette Cioè ho due fiaschette Quindi rimango qua Ma là dentro C'è un forziere Senza O nessun controllo O muassa Ci sono delle rane Non mi ricordo esattamente Vado a controllare Non mi ricordo Cosa ci sia Perché non l'ho preso Allora Allora Poi Allora poi Allora ci sono delle farfalle di aionia Di merda Ah guerriero o nomade Ricettario Cos'è che ti fa creare? Riesce a guardare Ah non me ne ho guardato che numero era Era 22 se non sbaglio Adesso non cogliere c'è il numero Posso guardarmelo anch'io Sono stupido Le cazzo sono i ricettori Vaso di marciume Marcescenza Grasso marcescente Grasso marcescente Basta Invasioni Dita sanguinanti Eh perché sono del gruppo 2 Mi invadono Che senso? Non lo so Fammi arrivare dalla grazia Così almeno Ehi E di qua giusto? Sì Vai lì Vai sulla sinistra E scendi le scale A sinistra? Ah sì E chi cazzo le vedeva? C'era il fumo del Del cose E inizia il pvp signori Mica stavo per crepare lui Ho visto adesso la vita che avevo Santo dio Ok Sta facendo questo Arrivo Questo qua La gambotto Arrivo Proprio potente Attacco Funesto Ah Sokka 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 Verda Sokka Stavo lagando un botto Si rido perché Tardo Mi farebbero Il culo A strisci Quindi Eh vinico No E va a fare un culo Un culo L'ho preso Nooo Si l'ho preso Ok andiamo C'è un tipo stragato Ciao tipo Ma C'è un raggetto Lo farò poi Poi il raggetto Andare Ma non è neanche tanto forte E qua non mi è C'è un raggetto Tecnicamente si Non puoi scrivergli di divenire mo Eh no lo deve installare Perché è andato a prenderla oggi pomeriggio E quindi deve Ma quindi qua Cazzo vado Ah giù Diciamo già attento a riedito l'angolo No Già preso Sì sì Ok Vieni giù Scendo di qui C'è un verme Che schifo Lo prendo Cazzo sei Cento piedi Aureo Sono qua Sì sì Mille piedi aureo 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 Attento Faccio le burle Ti potessi far danno così Mica sarebbe bellissimo No di nuovo voi Non lo avevi visto Eh no non lo avevo Oh Lo sto andato cadendogli in testa Bellissimo Chi cazzo gli ha visti Vieni ma io mi faccio i cazzi miei Ancora non l'hai capito Cazzo fai con quella alto su Attenzione Questo è la marcia scienza No Ma mi ha schifato l'attacco Che figlio di puttana Ma vieni qua Allora Non c'è niente qui Attenzione Eh là c'è un Ma mi sta salendo La marcia scienza Attaccato Oh 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 Perché hai rotolato la marcia scienza Ma vaffanculo Vieni Aspetta Dove E là c'è uno spirito arboreo È quello Dove sto andando io Più o meno Come più o meno Ci sono due strade Eh no Che deve andare qua dietro Dove c'è la marcia scienza Vedi che ci sono due oggettini dentro Dove c'è la cascata Li vedo li vedo li vedo Eh se vai là C'è il dito Ecco Zeus Eh Se vuoi faccio anche questo Grande Oh Se no Allora se vai là Sfona il tipo Se no sbadiglio Allora Vuoi fare così Se vai là Ti cade il tipo Cioè ti sale il tipo Da sotto terra Se vuoi farlo Lo facciamo Se no andiamo avanti Ah Arriva Ah Ho detto che ti sfida la sotto terra Ah Cura te Cura te Ah Ti amaro Vedi 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 Ah Lo so Lo so Via 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 Fucci 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 Mangia i boli Che schifo però Pensare di mangiare i boli Madonna Madonna Io porco Porco voglio No la marcia è scienza Che cazzo hai combinato Cos'è sto cadendo Aiuto No porco dio Ha fatto la super mossa Se vedo Ma fa il culo Ma come Scusami Ma l'importante che non so morto io Ma fate esplodere Eh l'importante che non muoio io No lo so morto io Ma che me ne frega Sei l'ospite Devi dare una mano Eh ma a me non mi rievochi più Avevo avuto culo Eh posso spawn Posso trasportarmi eh Ah boon dai No ok Deve rifarci tutta la strada Eh devo solo scendere Siamo lì eh Ci vediamo No ma lì si riesca a arrivare Ma lì non riesca a arrivare Io dove sono Sì ma almeno mi prendo un po' di fiaschette Non ne ho quattro Ah sì 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 vai 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 E almeno magari E almeno magari Usule rune Che ne ho 118.000 C'è un po' di Eh Io avevo tipo 160.000 Sì ma finché non devo arrivare A quel numero lì Io preferisco Eh no io devo arrivare un po' di Per diventare Mi manca Un livello Tu aspettami L'assoluto Sono almeno In intelligenza Vaffanculo Quando l'hai fatto Ti aspetto laggiù Che Laggiù Non hai perduto Anzi Anzi Ti metto Prima del salto Per la parte rotta C'è il mio dito Guarda Le coprame le rune Ma tu scusami Non sei Non sei Non sei Dalla grazia No Stanno a prendermi le rune Ma guarda che Quando muori Te da Ah non me le perdo Eh no Imbecille Ehi No Sono prima Sono Il mio dito È prima del salto Allora Prima del salto Allora alzo il dito Fortissimo Eccolo lì Eh ma mi dimentico Che non le perdo Se muoio da Solo se invadi O muori nel tuo mondo Eh non mi ricordavo Infatti una volta Una volta Dando una mano A un mio amico Che io avevo sbloccato Tutti i falò del gioco In Dark Souls 3 Mi sembra Col mio vecchio account Minchia avevo fatto Tutto il gioco con lui E io ero tipo New Game Plus 3 Quindi New Game Plus Plus Infatti te che Di Obono Ho Ho raggiunto Più o meno 10 milioni di Anime Tra oltre quelle Che ho trovato in giro Che ho usato Un pochino diciamo Sì ma mi servivano Allora Grande Grande operazione stealth Io prendo quello a sinistra E tu prendi quello a destra Ok Ok Vai veloce 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 Svegna Ti dico solo Che ho appena vaduto Il primo Oh io ho fatto il repot Sposto Detonato Aspetta 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 No Come cazzo Mi ha scettito Aia Penso di morirci Non muoio Forse Non muoio Ok Forse muoio Ok Non muoio Ok Oh Signore Il salvataggio In extremis Eh Là c'è un pugnale Se vuoi Dove? Qua Sopra C'è una cesta Qua cosa c'è? Ah là c'è una vara Mi fa diventare donna? Eh No Ma non ero neanche vicino Cos'è successo? Ma perché? Ma io me lo prendo un materiale Perché? Eh sì posso perché? Scusami Eh schifo schifo E cadi dalla cascata Cadi dalla cascata Norto di cazzo E basta Aspetta voglio vederlo Per la prima run Devo vederlo L'animazione perfetta Sai cosa ci voleva Visto che c'eri anche te Che mi davi il calcio Alla cosa Sarebbe stato perfetto Sarebbe stato perfetto Sono finito adesso Scusami Eh 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 Vuol dire Eh Eh Non mi piace questo Eh 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 Lui è Però bellissimo Come esce Il personaggio dalla bara Bellissimo Che esce Ti guarda Come dire Che cazzo fai Coglione Soprattutto con la faccia Di Con la faccia di Blade Blade Blotz Vedo già Luce gialla Boss Lui è Lui è Chi cazzo è lui Tu dove sei? Ah eccoti E lo schermo nero Quindi Ok Aspetta Fammi ne parla Del cazzo Sta cosa Vabbè Poi ritorno Lo su Grande Boss Fight No Ah c'è Marica Qui Ciao Marica Sì C'è Marica Che ti fa Pesci in faccia Marica Oh Marica Ti prendo Pesci in faccia Marica Te lo dico Ma c'è Tu pesci Ah godurioso Non ho più un po' Lei Che cazzo è sto tizio Astel Aia Ma c'è la morte con te Ma che cazzo gli hai fatto Ma sono entrato Ho preso un Pistone In ora Oh Ma che cazzo Ma che cazzo c'ha pianeti Nella coda Strafico Ma è uno di qui Ti Aiuto E' a migdala E' a migdala Dio buono E' vero Aia Aia no Sono morto Sì Sì Fa un po' di danni Quella presa L'hai visto il buco nero Eh sì In culo a tutto Beh è un teletrasporto D'altronde C'è più o meno Ho seguito il fiume L'ostige Beh io alzo il ditino Ti aspeto Eh io sto teletrasportando Ok Dove sei? Eh da Marica Oppure davanti Davanti all'entrata Ok Eh no Io ho soltanto la grazia all'interno del boss Per quello Eh lo so Immaginavo E beh vive bene almeno Difatti è una cosa che stavo pensando Adesso Ah di qua parco io sono stupido Difatti stavo pensando una cosa Anche se finisco il gioco Di non Di non fare diciamo il finale Finché Ma io adesso che ho finito il gioco Mi vado a spoilerarmi il finale Come ti vai Ah nel senso Te lo vai a fare No nel senso Vado a vedere Cosa succede Ma perché? E che voglio Non so se evocare il ragno o no Eh ma lì è una scelta tua Sai che la evoco Dopo quello che vedrai Dopo sta boss fight Fia ti viene voglia di Non evocarla No? No c'è un po' di paura Ok lo posso Ma quindi dopo questa roba qua Mi danno la cosa di blade? No Non lo so almeno Perché penso Allora Fammi pensare Allora di qua Arrivi su Fai la zona C'è il buco di merda Comunque ho messo il dito È vicino All'ingresso da boss fight Mi ha appena comparso Poi Penso Non so quando è pazzesca blade Io ho visto che uccidiamo anche Alexander Penso Uccidere Alexander? Come non è successo? No Io non l'ho visto Ho visto che ci sono dei tornadi in giro dove lui Poi boh Mi è spoilerato come cosa Quindi non so Vabbè Ma io non entro E come? Entra Giulia E sono entrato E beh entro io per forza Per primo Sì nel senso Entro tra un po' io Ha sparato verso di te Me l'ha sparato attraverso la porta Della boss fight Sì Si è calmato Aio Pianeti Non ho trovato la vita No Quasi Praticamente Dopo voglio vedere se Devo andare all'assideramento Se posso fare l'assideramento Le mie rune Ahia ma ti ha tornato una cinquina Aia Sei veramente brutto Mi metti Mi stai mettendo un'angoscia incredibile Oh Dove va? Ok vai via Ti ho guardato Perché penso non posso sollevarmi Come? Perché sei il lord ancestrale Aia Sì penso di Penso non posso alzare Perché è la seconda volta che mi ha preso In quella mossa Che non mi ha sollevato E io non è per dire Lu ma non riesco a colpirlo Va bene? Anch'io tranquillo La frega Oddio Madonna No 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 Porca croia Ho fatto grande al-Qaeda Uuuh Cosa sta? Uuuuh No mi ha shottato No Eri l'unico che gli faceva danno Cazzo Mi sembra di Aia Mi sembra di combattere contro Mog Ho un'idea No no Molto più facile il Mog lui Beh si si vede dalla vita In effetti Poi sono anche più potente Rispetto a come abbiamo provato contro Mog Com'è che si chiama lui Astell? Astell Vediamo la wiki Vedete se è stronzo o no Ehm Ok Vabbè Allora Sai cosa stavo facendo io? Sto cercando in data di congelamento Eh E' immune Lui è immune Immaginavo Cioè L'unica cosa che ho deciso di fargli E' immune Beh io ho buttato giù il tino Nel dubbio Se muori Non dirlo Non me la tirare L'ho detto nel dubbio Nooo Uh Aspetta Aspetta Non ti muovere bastardo Figlio di puttana Vieni qua Ah Stare fermo Stare fermo Stare fermo Aspetta Aspetta Con me Con calma Abbiamo appena battuto Un Godzilla Scheletrico Versione Mothra Ma c'è Ma c'è un simbolo di cose lì E' nuovo quello Ok Ora vai a Raio Lucaria Alla grande biblioteca Aspetta Da Renala Sì sì no nel senso Dopo che hai fatto tutto Quello che devi fare Ok Vado da Renala Ok vado Ci sono Apri forziere Ah così Ciao ciccia Che fai? Ti tiro un colpo? Non posso No Chiave del palazzo gettata Annello della luna nera Fammelo vedere Com'è anello? Non si possono mettere gli anelli in sto gioco? No È un oggetto chiave È un oggetto chiave Sì è l'oggetto che ti serve per andare avanti Quello puoi tornarti a Annello del gelido vuoto Annello raffigurante una Plumbe a luna piena Simbolo di un gelido vuoto L'anello è stato affidato alla principessa Ranni Per farne dono al suo consorte Oh Ranni è un'Empirea Ecco lei Che la Impalmerà Che la Impalmerà Otterrà il titolo di Lord All'interno è inciso Un monito Chiunque tu sia Non sottrare l'anello A questo luogo Poiché la solitudine Che Alligna Oltre la notte È mia soltanto Bene Che poesia Andiamo da La stelle Progenie del vuoto La grande progenie del vuoto Ti fermi C'è il biotto Dove cazzo È il buco Di qui Vai dove c'era la parete blu Eh non c'è più la parete blu Se non c'era Eh appunto Ora vai Dove c'era E C'è un accessore Se non sbaglio Guardi una cagata Vediamo Non me ne ricordo Si Che figata Pozzo profondo Di Einsel Ah Sì qua Ci volevo venire Io qua sopra Altare del chiaro Di luna Tu non sai Quanto cazzo Di tempo Ci ho speso Io a cercare Di capire Come salisse Allora Penso di poterti Comprendere Perché anche io Ci ho messo Un'eternità Per cercare Di capire Come salire Lassopra Sai quanti giri Ho fatto Per la parte sotto Al villaggio Di Albinauri Porca troia E sta chiamando Marti Aspetta un po' Che devo rispondere Oh Risponde 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 Asperger Fiori Vedavo Io anuximo Pah Siiii Eccomi Devo andare fino alla cattedrale giusto? Aspetta aspetta evoca me Arrivo Ce la giriamo assieme almeno Aspetta un secondo per evocarmi Eh c'è un problema Mi ha urlato un coso Un cosa? Un drago Un drago dragheggiante Eh non lo so Io stavo andando tranquillo bello spensierato Poi mi ha detto evocami Ha detto va bene E poi mi ha urlato nell'orecchio Allora Devo a questo Metti No va sti cazzo Allora Aspetta un secondo Quando vuoi La mia cosa è di fianco alla grazia Allora io Devo chiamare Chiamo un attimo mio padre Intanto Eh ho già alzato il ditino Attendo il tuo coso Eh l'ho messo in te E poi quando lo vedo Lo vedo Lo ributto per terra Per sicuro Adesso Allora 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 la posta di yo-yo la posta di yo-yo abbe te cadaver siuu Sì Porca boia 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 Porca boia